a spreca fioi qua il masseo oggi con un anticipo della madonna siamo qui per giocare a uno dei platform più devastanti della storia dei platform ovvero in anteprima solo per noi crash bandicoot it's about time il crash 4 andremo a provare la demo ci sono tre livelli partiamo dal primo e andiamo in ordine e vediamo com'è questo nuovo crash storia completamente nuova naturalmente non è un remake quindi è fattuale che la storia sia fresh new bella fresca eccoci qua con il primo livello fa un bel freddino eh guarda che cazzo in grafica oh la fluenza proprio cos'è sta maschera ok ma si slow al tempo tu padre uh 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 asbrega fioi aspetta si slow al tempo ah vaffamok ah facile da carpire vieni qua affam bellissimo devastante e via così e via così tu padre allora incredibile incredibile mamma mia troppo forte incredibile masseo bello di casse no no madonna stavo già per volare sotto ok golose belle così le mele le mele ok marcatroia double jump e slide ok ok non è che dovevo slideare sto per spaccare qualcosa adesso eh sto per sclerare ed è una prova 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 ed è una cazzo di prova allora double jump e dammi sto checkpoint de dio non talking about rallenti il tempo aspetti stuc stuc e ci siamo facile facilissimo molto bene adesso no non volevo toccarla ok molto bene prese le mele d'oro sono sto via 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 avevo la maschera non me ne ero accorto o no ok vai su facile facile lo slam perfetto adesso livello bonus vediamo un po' scusami come cazzo dovrei fare io qua beh si fa così perfetto sono proprio io il king dei troll quindi io dovrei andare qua prendere questa fare così così sono un genio un genio il genio mi chiamavano il genio sono il più veloce sono il più forte perfetto ok bello dip non riesco a tornare indietro no vabbè dai sti cazzi andiamo avanti e questo come si fa io devo saltare in testa ok cos'è sta roba o no unexpected mi sa che sono troppo lento ah ok meglio va là va là va là va là devo aspettare il momento giusto eccolo momento giusto momento giusto mamma mia momento giusto momento giusto momento giusto incredibile checkpoint subito bello dip stuc stick mele non è più il tempo delle mele queste si spaccano 10 10 cos'è che c'è qua c'è qualcosa di qua però eh che cazzo stavamo per perderle mannaggia i secchielli di qua di qua sono proprio io sono proprio io il volpista volante il volbiere ok si torna qua si fa un bel tuffo in piscina sono scarso in culo tu padre perfetto guarda che bella mela gigante un bel checkpoint è che se è visto se è visto oh no chi è questo è uno zombie aspetta non ho capito dove devo andare qua perché ma non ho capito oh ma che pro ah quel pro prendilo prendilo oh evviva ehi 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 coglione tu padre ok qua naturalmente bisogna aspettare i ghiaccetti belli deep come il sole belli deep come il sole cosa bisogna fare qua non così bello perfetto incredibile eccezionale ok bello bello io non riesco a capire come arrivo a quelle cazzo di mele d'oro blunk blunk e blunk perfetto adesso vediamo se al contrario è più facile andare sopra a mani basse a mani bassissime adesso io non so se da qua riesco a fare una cosa perfetto così bellissimo facciamo in serie mamma mia che scleri che scleri su sto gioco ok con calma non voglio driftarla ok bastarda sei una bastarda sei una bastarda ah che figata sta roba del bloccare il tempo però eh bella deep voli 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 non entrambi magari prendilo 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 prossimo uclap perfetto asbrega fioriante qua fai così stuc molto facile perfetto il fazzone grazie belle come il mare no dove vai ah sei un coglione prendi que ole 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 volare grazie molto gentile volare dove stracazzo vai carolina costner su quella barca lì che va ma che cazzo vuol dire zero morti zero morti ok 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 questo si spacca questo lo mandi a fare nel culo sono stato troppo gridi sono stato troppo gridi posso fare tutti i saltini di merda fai così lo mandi a fare nel culo ci vediamo bello salti bello deep e siamo così ah ah volevi scammarmi gioco stuc alla pim pum lo tocchi non lo tocchi addirittura incredibile ah ho perso delle casse all'akines posso ritenermi soddisfatto selfie e a casa con calma mi vedete calmo adesso lo stiamo provando siamo tranquilli siamo benevoli sapete che su twitch la situazione è diversa e vi aspetterò là anche per questo walkthrough adesso fammi capire qua come si ammazzano questi coglioni jump spin ok perfetto nessun problema così oh no sbocca no non sboccare ok che so questi ah bellissimo che belli no sopra il dino oh e allora via dalle bale no c'è lo sboccatore non devo toccare è a fare nel culo perfetto adesso no non mi ammazzare adesso eh ecco vai via eh checkpoint cos'è sta roba eh nuova maschera cosa fa ok quindi qua cambia fai così così bello dip poi fai così cambi e fai cosa perfetto mi sembra abbastanza sbric ma dovevo dire i funghi qua che c'entrano i funghi o no come faccio a prenderla quella posso andare addosso perché cazzo non salto ok bello dip cosa vuol dire orca puttana aiuto no che se ne frega spacca tutto lui tanto bene bene spacca tutto aiuto 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 mamma 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 aiuto mamma aiuto mamma aiuto mamma 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 il t-rex faz t-rex all'inseguimento facile bolle di merda bolle di merda bolle di merda e stucchete e stucchete e stucchete e stucchete tuncete via fuori dalle balle ok dove è la maschera ma che belli i cucciolotti guarda che belli bellissimi la maschera ando che azzostare porca di quella puttana dovevo atterrare fare il doppio salto e fare la pirouette ma sono deficiente il meglio mi chiedo ma sei coglione zero morti zero morti signori zero morti strip scam ok qua prendi l'equilibrio bello dip esplodi prendi quello stu vai sotto prendi questo ciao bello prendi questo poi fai così non sotto che magari muori no adesso si bunga e d poi stuc ciao bello stuc fai così stuc e fai così stuc e fai così va anche te poi bello dip prendi questo ok prendi questo prendi qui e prendi qui adesso 1 2 3 4 5 6 ma non è vero ma perché vabbè mokamam tu sai let's go ma che è i triceratopi i triceratopis no oh no sono arrivati no maledetto maiale no er dinosorts no i funghi del merda aiuta i rovi tu padre oh no esplodi ma preso e come fai vaffanculo questo qua rosa è bello è buono eh mokam l'estramuerte va ok qua non è vero scusami che cazzo non ho ben capito non si può saltare di là slidando come faccio raga ah eh fa mok è facilissimo sono un grande sono un genio sono una sbrega fioiante sono una sbrega fioiante non è vero 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 devo aspettare devo aspettare devo aspettare bene bene tac stucchete e leccatemi tutti il filetto oh benissimo asbrega fioi orca troia e adesso qua ah dovevo slidare sotto non mi avrai non mi avrai non mi avrai non mi avrai non me ne frega un cazzo delle casse no fazzone fazzone non mi non mi prendere fazzone no il faz t-rex aiuto aiuto il fazzone all'inseguimento no la lava fazzone sono il tuo migliore amico cazzo vuol dire no no ho preso la droga la sensazione di inseguimento mi sta distruggendo le meningi non mi avrai non mi avrai aiuto aiuto ma non è vero madonna di ok bomba sopra qua ci siamo adesso vola no merda e vai a fare nel ah è caduto nella lava eh fazzone un bel bagnetto come gollum ah 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 e vabbè qua non mi va a prendere tutte le casse impossibile bel selfie la sbrigafioianza continua e andiamo all'ultimo no way out cortex timeline eccolo ah 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 eh block fight target moncas ma che figata non è il doppio salto allora qua aspettiamo gelatinize the target cioè rendilo gelatina per saltare più in alto e come si fa ah moncas moncas doppio ah so coglione allora volare intanto prendi il checkpoint ok non lo sapevo tirata è stata bello ok ragazzi scusatemi se non prendo tutte le casse ma sono un po' in ritardo con tutto nel senso che stasera anzi stanotte parto e quindi putta la leva devi andare su e vai su vai su ok perfetto e ci siamo a posto ok c'è la sua eh allora allora così bam bam ok mannaia si bello ah ecco adesso vedo arrivare ah è stato lui a far esplodere tutto è stato lui ecco chi era stato a far esplodere tutto le storie si intrecciano oh oh no no il checkpoint ripeto ragazzi io so benissimo che lo scopo del gioco è prendere tutte le casse ma so in ritardo vieni no ok fioi belli dip ok asbrega fiollanti ok 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 bella la mela asbrega fiollante bungade ok ma che cazzo vuol dire mi sto altamente alterando eh tieni sto cazzo di ritmo sto impazzendo sto impazzendo ah ah son coglione son coglione stick fam ok vai bello asbrega zero morti ragazzi zero morti ancora per noi zero morti zero morti incredibili siamo proprio noi si easy sono ancora in modalità potenza modalità extra potente perfetto ole no come cazzo è che non ah voi eh vabbè aiuto ok fius mamma mia che sudata sto livello ragazzi che sudata e non ho fatto neanche metà delle cose che dovrei fare fiai per oggi è tutto spero che questa anteprima sia stata di vostro gradimento io sono stato molto contenuto perché mi hanno gentilmente invitato a provarlo quindi io non so come debba comportarmi quindi sempre nel rispetto di queste collaborazioni io sono tranquillo mi contengo il più possibile verrà tagliata gran parte del gameplay perché naturalmente capite vi chiedo 30.000 like perché fa calda estate quindi siete tutti al mare a divertirvi eh eh tutti i link li trovate in descrizione beh amori e se beccamo alla prossima ignorantata esbo ciao 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 ciao